Siamo a vedere le mani ragazzi! Dai! E' il centro del centro dei nostri! Ora avete capito che ci sono i miei amici che ci sono i nostri? Stata una razza dura alta! Il numero sarebbe finito! Ci ha preso il gusto! Beh dai, sono qualcuno di me che... Qualcuno che li dite in cattro! Proprio fino in fondo! Com'è andata? E' andata alla grande! Non potremmo invertire i ruoli perché Erick sarebbe rimasto scherzato! Esperienza nuova! Esperienza nuova! Ci fa piacere!